Il ragamuto a Santa Rosalia è antichissima, dal che gli scrittori ecclesiastici dicono che la prima chiesa in assoluto al mondo costruita in onore di Santa Rosalia sia stata costruita dai ragamutesi, in particolar modo da un'antenata di Marcantonio Alaino, quindi sicuramente nella zona di via Camurri, angolo via Marcantonio Alaino e gli scrittori dicono che risale al 1208, praticamente a pochi decenni dalla sua morte, perché Santa Rosalia è riconosciuta, Santa immediatamente si trova dopo la sua morte perché visse in santità e già durante la sua vita era oggetto di visite e di pellegrinaggi sia nella grotta della pesquina sia nella grotta del monte pellegrino. La nostra tradizione ormai da più di 800 anni dice addirittura che sia nata casualmente a ragamuto e questo fa un po' di impressione che il popolo da 800 anni dice sempre la stessa cosa, io negli anni ho raccolto varie testimonianze e spero che anche voi possiate farlo con le vostre nonni, le vostre nonne, le memorie familiari per dare questo lustro alla città di Ragamuto, è ovvio che è solo una tradizione orale, sebbene gli scrittori ecclesiatici se ne siano pure occupati, però quello che è più importante per noi è che a partire dall'interessamento del professore Nardone nel 2005 sia ripresa la pesta, la pesta è una pesta autenticamente popolare, senza sfarzo, senza pompe, genuinamente sentita dalla popolazione della Ragamuto e questo mi fa molto piacere, di anno in anno aumenta la partecipazione dei ragamutesi a questa devozione, a questa progestione, non possiamo che esserne contenti e la devozione dei ragamutesi già si esplicava prima della pesta del Seicento nella grotta della Cospina, il martedì di Pasqua i ragamutesi facevano una processione e andavano alla grotta della Cospina a far assistere alla Messe in tempi non sospetti, ancora prima della peste famosa del 1624-25 quando la Santa fu accamata patrona di Palermo e arrivarono nell'agosto del 1625 le reliquie a Ragamuto, le reliquie che veneriamo qui, sono due pezzetti di ossa del costato, queste reliquie sono state prelevate, andate a prendere da 80 cavalieri ragamutesi direttamente a Palermo e poi sono state accolte con una grande festa, addirittura prepararmi tre grandi archi floreali che io spero sempre di poter rivedere in questo corso magari uno per ogni parrocchia perché sarebbe giusto che invece di questa bella luminaria o all'agri accanto a questa luminaria ci siano quegli archi di fiori e di fronte verti che accorsero le reliquie nel 1625. Che dire di più, la festa continua, la tradizione non si è mai spenta, addirittura dove c'è l'edicola si dice che Santa Rosalia abbia sostato la notte, e quindi noi non vogliamo imporre una primogenitura o per forza il fatto che Rosalia sia la nostra concittadina, però questa bella traduzione che la dice, nata, carteggiata e vissuta per qualche tempo, a Ragamuto ci fa sempre immensamente piacere.